Cade Meal, it's Meal, in a Nicole Byer. Questa stagione sarà ricca di scherzetti e ci verranno a trovare molti protagonisti di altri prodotti Netflix. Lo spavento, il torcetto e lo scherzetto, perché siamo a Nail di Halloween! Che succede? Posso rimediare? Fagli una mossa di karate. Qualcuno sta creando una ciambella con la mia faccia. Non va bene. Benvenuti alla nostra festa di Halloween. Ora ho qualcosa da raccontare al mio terapeuta questa settimana.